Molto bene, soldato. Sei il primo di noi che riesce ad arrivare così lontano. Congratulazioni. Ora vedremo di che pasta sei fatto. Entra nella fortezza e trova il diario. Secondo la leggenda, troverai il diario in un punto molto all'interno della fortezza. Ho capito, ma come si spara? Allora. Opzioni. Comandi. Ah, ecco, forse è qui. No, 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 sto facendo casino. Bello. Posso fare wasd. Figata. No, non posso selezionarlo, quello. Ok, ok. Uh, 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 forse, 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 non c'era. Oh, non c'era selezionato, non era selezionato, vaffanculo. Quindi, ora, questo cosa fa? Ok, quello spara il fango. Questo ghiaccia, vai. Proviamo a sparare il fango. Vieni qua, ora non ho più paura. Porca puttana. Invece sì che devo avere paura. Eh, proviamo con questo, con questo. Molto bene, soldato. Sei il primo di noi che riesce ad arrivare così lontano. Congratulazioni. Ora vedremo di che parte. Madonna. Vieni qua nella fortezza e trova il diario. L'ho disintegrata. Secondo la leggenda, troverai il diario in un punto molto all'interno della fortezza. Figlio di puttana, però. Non ho messo il salto. Il salto è ancora su wall. Su wall. Allora. Comandi. Dov'è salta? Salta. Barra spaziatrice. Lo spazio cos'era? Ah, no, per continuare. Ma non ci serve a niente. Noi. Vai. Oh, vai, vai. Ora sono carico. Ora sì che sono carico. Oh, scudo. Minchia, sono ancora ghiacciato, cazzo. Ma chi era quello che ha parlato? Madonna, che fastidio i passi. Li sento nell'orecchio. Ah, figlio di puttana. Lo becco da qua, no? Ok. Lo sento, come mi muovo a sinistra o a destra. Da un fastidio. Quindi sembra che c'è qualcuno alla mia destra o alla mia sinistra. Allora, due. Provo a lanciare il fango. Un po' di fanghi! Dai! Punto molto all'interno della fortezza. Sì, ma che raggio è? Quando troverai la stanza del diario, contattami di nuovo per un aiuto. Esalimerò i miei appunti. Questo me l'ero già dimenticato, madonna. Io ve l'ho spedito, sono andato. Senti, fa schifo. Fai ancora più all'interno! Eh, tua madre, fai ancora più all'interno. Che palle quando mi ghiaccio. Già è lento sto perso. Eh, sto già morendo. Porca puttana. Porca puttana. Si è bloccato il gioco. Ah no, ok. Eh, tua madre, molto bene. Vediamo il ghiaccio com'è. Congratulazioni. Ora vedremo di che pasta sei fatto. Entra nella fortezza e prova il diario. Secondo la leggenda troverai... Ci vuole di più, ma almeno li rallenta. Ah, mi ha rallentato. Accendo un attimo la torcia, così magari... Madonna che quella, Madonna che torcia. Bello come prende in basso. Proprio come se fossi su. Non è che prende la scia. Eh, che bello che... Oh, se si dà, così almeno si rallentano. Mi rallento anch'io, ma almeno... Se mi colpiscono. Però almeno siamo flinti tutti e due. Oh, sempre qui si blocca. Cristo. Perfetto, non ce l'avevo. No, io qua io scappo. Io scappo. Provo a correre perché... Madonna, ma che salta! Ma che li salta tutti! Ok, devo... Devo sparare a raffica. Non me ne frega. Devo far così. Allora, qui c'è... No, vado di là. Visto che tanto di là... C'è solo la tizza qui. Oh! Non lo prende. Scivola, scivola. Mai, non mi ferma più nessuno. Questo non lo prende. Ah, ok. Cacchio, qua è buio. La torcia F, sì. La stanza del diario. Recupera i quattro talismani e sistemoli sul piedistallo di pietra. Fai attenzione ai guardiani, beh, ovviamente. Bene, giovanotto, sei arrivato alla stanza delle prove. Fammi dare un'occhiata. I miei appunti dicono che devi superare quattro prove per ottenere il diario. Fammi vedere. Non si dirlo con certezza, ma farò del mio meglio per produrre questo testo scritto in antico eslandese e darti una mano. Eh, tua madre... Grande, hai preso il talismano d'acqua. Ora inseriscilo nella fessura del libro di pietra. Sei solo. Eh, sei solo. L'ho visto uno, l'ho visto uno. Eccolo qua. Madonna, mi sento tipo Harry Potter quando lanciano... Ok, l'ho messo. Ora si è aperto di qua. Però non lo prendo. Qua rimane aperto? No, sì, sì. Niente. Beh, non lo prendo. Cerco di non prenderlo. La prova è superata. Ne restano altre tre. Continua così. Moriremo tutti. Immaginavo che fossero stronzate queste prove. Sono più complessi questi. Sei a metà strada, ragazzo. Non mollare proprio ora. Vede, signora Packard? Non c'è niente di cui preoccuparsi. Eh. Mi sento molto meglio. Io qua ho paura. Oh, cazzo. È cambiata la musica. Guarda quanti ce n'è là. Due? Basta? Un altro, un altro. Ok, intanto metto questo. Vai. Li faccio fuori tutti dopo. Almeno qua c'è l'energia. Ok, così in caso. Oh, cavolo. Che succede? Vedi il diario da qualche parte? Te l'avevo detto che era una ricerca inutile. Eccola la. Eccola la. Eccola la bastardella. Il cavernicolo non c'è. Eccolo qua il bastardone. Oh, eccolo qua. Bel diarietto. Che cazzo succede mo? Ah no, è finito. Ok. Ok. Mentre fa vedere tutti i nomi, io vi saluto e ci becchiamo alla prossima con la prova del fuoco. Alla prossima.